buongiorno buon pomeriggio a tutti e tutte benvenuti in diretta come state ovviamente diretta dedicata ai disordinati le disordinate chi ama fare ordine e chi ama l'ordine in generale spero che mi si senta bene mi farete sapere adesso che apparirete in diretta oggi è giovedì 14 aprile e adesso sono qui appunto sul mio balconcino di lisbona entro dal computer per vedere i vostri commenti e per chi guarderà poi indifferita lascio nei commenti il link della diretta in questa diretta andiamo a parlare di due tematiche che saranno le stesse che poi saranno invece approfondite e risolte all'evento all'evento di settimana prossima 21 aprile di cui vi lascio il link e cui potete già iscrivervi è un evento gratuito molto importante per tutte voi che mi seguite o che magari la prima volta che mi vedete però siete capitate nel giorno giusto eventualmente evidentemente se avete questo problema perché per chi non mi conoscesse conoscesse giustamente non mi presento mai sulla mia pagina nei miei video mi presento sempre perché li può vedere chiunque nelle mie dirette come se fosse a casa mia e dico cioè tu entri a casa mia mi devo presentare però mi presento perché non mi conoscesse perché ancora non 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 sei iscritta all'evento se si iscrivete se vi iscrivete all'evento mi conoscete perché c'è tutta la descrizione di chi sono cosa ho fatto comunque prima di trattare questo tema che è fare ordine sì ma come e io però non ho tempo perché ne parlo io perché due vari motivi principali sono due primo ex disordinata 19 anni disordine e a 19 anni ho fatto ordine per la prima volta ed è ad oggi rappresenta per me il mezzo grazie al quale ho risolto la maggior parte delle problematiche che ho che ho avuto nella mia vita che sono le stesse che anche voi vivete infatti all'evento della settimana prossima le andiamo ad affrontare tutte quindi quello che sia riguarda le problematiche a livello di stress ansia quindi anche a livello psicologico ma anche a livello fisico ma anche per quanto riguarda esempio l'insonnia comunque tutti i che tratteremo e tra cui anche la gestione del tempo chi è adesso in questa live e lo diciamo molte di voi non hanno tempo anche io dicevo di non avere tempo poi ho scoperto che facendo ordine ne avevo tantissimo a disposizione semplicemente che lo sprecavo tanto 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 nel sia nel fare ordine che nella ricerca delle cose in casa mia ma anche nel pensiero della casa delle mie cose così via quindi sono una combo se da un punto di vista pratico che da un punto di vista proprio intellettuale ok di pensiero e questo è la prima parte la seconda parte qual è che la porta parte più importante per voi che mi ascoltate che poi l'ho approfondito al punto da desiderare ok di volerlo proprio fare come lavoro quindi volerlo insegnare diffondere diciamo i benefici di quello che io ho vissuto più persone possibili ovviamente quando io sono quando io ho fatto questo e avevo 19 anni avevo finito la maturità era l'anno della maturità e dovevo anche capire un po cosa fare nella mia vita quindi per me in quel momento è stato importante perché ho capito che con un problema grande come il disordine avrei potuto aiutare tantissime persone che soffrivano di un problema del genere che può essere a livello all'evento lo scopriremo per questo vi invito ad iscrivervi perché faremo andremo andrete ok a scoprire qual è il vostro livello di disordine questo è molto importante capire qual è il vostro livello di disordine sono tanti livelli e voi farete un test vi farò fare un test con il quale potrete capire la gravità ad oggi del vostro disordine questo è importante perché perché ovviamente quando ad esempio io visiono le case e ne vedo tante di case ci sono proprio dei livelli cioè identifico proprio che c'è una situazione che ha un determinato livello una un medio uno proprio grave ci sono vari livelli di disordine e all'evento vi spiegherò l'importanza di capire qual è il proprio livello e perché è importante fare questa analisi che da soli non fareste mai non capireste mai l'ostacolo che rappresenta ma anche il pericolo e comunque ne parleremo all'evento quindi iscrivetevi comunque all'evento e partecipate perché andremo proprio a trattare questa tematica a 360 gradi quindi disordine ordine a 360 gradi nella casa ma nella vita quanto influenza la vostra vita e quanto l'ha influenzata a me fino a 19 anni il disordine e quanto invece l'ha influenzata in modo assolutamente positivo l'ordine che per me rappresenta la soluzione e il mezzo efficace per risolvere qualsiasi qualsiasi problema difficoltà ostacolo abbiamo nella nostra vita perché perché la casa è lo specchio della nostra vita quindi la casa ci dice già tutto quello che va e non va è uno specchio ed è un po come se fosse una fotografia per noi è difficile riuscirci a vedere da fuori e vedere ciò che non va anche proprio perché siamo dentro la situazione no invece se noi vediamo la nostra casa ci rendiamo conto no che facciamo fatica a starci dietro fatica stare dietro la casa vuol dire che state facendo fatica a stare dietro la vostra vita fatica o stanchezza o stress o ansia nell'ambiente in cui vi vuol dire che tu vivi quelle emozioni già con te stessa quindi tutto uno specchio è sia in positivo che negativo ovviamente ora andiamo a vedere quindi le due domande della diretta che sono scusatemi un secondo io dal computer sto cercando di accedere a facebook ok così vedo se state commentando state salutando perché delle volte ci sono anche delle mie o delle mie leonese clienti consulenti mapo vediamo se vi vedo però ok sì non vedo niente vabbè intanto inizio a parlare allora bisogna partire dal presupposto che come fare ordine se io non ho tempo la cosa più importante la tratteremo all'evento è proprio questa cioè la maggior parte delle persone la maggior parte di tutti dicono ma io come faccio a implementare un'attività del genere perché comunque oggi tutta la casa sì tutta la casa ma vuol dire tutta la tua vita in realtà bisogna sempre prendere il fare ordine più come un percorso inferiore che fisico perché quello che tu vedi esterno nella tua casa e ti sembra impegnativo e ti sembra stancante sappi che il peso della tua vita che ti porti di tutte le tue paure dei tuoi pensieri delle tue magari rimorsi rimpianti ma anche rabbia che hai ancora dentro di te tutte questo il peso che tu ti porti da una vita c'è quello il peso quando dici mamma che fatica a fare ordine sappiate che in realtà non è una fatica che percepite voi ma perché sapete che è un peso che di tutto quello che ti portate da una vita cioè da anni e anni ed è un pensiero che avete da tanto tempo e che continuate a rimandare il fare ordine e fare ordine e quindi cosa succede che anche il pensiero in sé sembra pesante e lo è io capisco capisco tutte voi perché io l'ho fatto non solo su di me ma poi ho seguito tantissime donne ho fatto anche sugli uomini però poi mi sono specializzata sulle donne tantissime donne niente non vedo la pagina non me la carica peccato non riesco a vedere i vostri commenti però se commentate poi li guardo dopo e vi rispondo non so come mai ed è capisco quello che voi provate ora giustamente mi dici non ho tempo ecco il motivo per cui tu non hai tempo proprio perché sei disordinata e questa è la verità più più brutta che ti può dire che i problemi che tu hai sono causati proprio dal problema che tu continui a rimandare che è il disordine uno non ci crederebbe mai ma dici ma come è possibile però io comunque come faccio a trovare tempo all'improvviso perché sono ancora disordinata no ok praticamente essere disordinati vuol dire non che tu non hai tempo ma vuol dire che disordinata vuol dire che ti trascuri vuol dire che ha delle cattive abitudini vuol dire che non hai una disciplina vuol dire che hai pochissima fiducia in te stessa quindi tu assolutamente già fatti col presupposto che non ce la farai il disordine calcolate che eliminare il disordine per chi ne soffre che sia livello 5 livello 3 o livello 30 che all'evento ne parleremo dei livelli in realtà vi permette di lavorare e riacquisire fiducia in voi stesse perché perché è un'impresa comunque no come detto è un'impresa a livello proprio interiore è un peso sì fisico ma molto di sfida con voi stesse cioè fare una cosa e portarla al termine imparare una disciplina implementare delle buone abitudini sono attività che da sempre voi avreste dovuto implementare ma non ce l'avete fatta il disordine essendo anche poi la manifestazione di questo è ciò che vi permette è ciò che vi permette di poter finalmente imparare implementare fin da subito questa attività e impararle senza neanche rendervene conto perché il processo di ordine proprio il metodo che io insegno qui adesso andiamo a parlare del metodo ha le basi quello di formarvi a livello proprio di disciplina abitudini fiducia in voi stesse chiarezza mentale capacità di scelta che sono delle capacità sono delle competenze che noi sperimentiamo con le nostre cose e fare ordine diventa il mezzo per fare un lavoro su di noi diventare quindi delle donne più sicure di noi che sanno gestire proprio tempo sanno scegliere se stesse mettersi al primo posto sanno dire no lasciare andare sanno dare valore a ciò che per loro è veramente importante riconoscere quindi valori nelle cose ma anche nelle persone nelle esperienze di vita è quello di impararsi a valorizzare è quello di non essere più pigre incostanti inconcludenti procrastinatrici approssimative tutti questi aspetti purtroppo fanno parte di voi ma si possono si possono eliminare in modo duraturo semplicemente avendo un metodo quindi bisogna fare il la connessione che dovete fare è io sono disordinata mi trascuro mi metto all'ultimo posto spesso faccio metterli piedi in testa non riesco a fare delle scelte decise e sicure ho poca autostima non credo nel fatto che determinate cose facciano per me o io posso essere all'altezza tendo spesso magari anche andare un po in ansia essere spesso stressata a non riuscire a convoliare quello che voglio non avere tempo per le mie passioni i miei desideri oppure ancora peggio non vi ricordate nemmeno quali sono ok forse sono ancora in diretta è saltata la diretta perché mi si è surriscaldato il telefono scusatemi mi si è surriscaldato il telefono quindi vediamo se però mi trovate altrimenti mi comincia una nuova senza problemi vediamo vi aspetto un attimo mi si è surriscaldato il telefono e quindi si è stoppata la diretta vediamo vediamo se mi ritrovate vediamo se mi ritrovate allora quello che stavo dicendo prima che mi si surriscaldasse il telefono e quindi sembrava che stesse per scoppiare una bomba ok era che fare ordine diventa il mezzo per fare un percorso ok sì ora mi ricordo praticamente quello che stavo dicendo eccoci scusate come ho detto saltata la diretta perché mi si è surriscaldato il telefono sapete che ero al sole il telefono non ha retto cioè oggi il sole è più caldo del solito evidentemente è la prima volta che mi succede però l'iphone ha questo difettino potremmo definirlo così allora comunque vado avanti mi sono ricordata quello che vi stavo dicendo ero arrivata al passo il passo sapete ma però ora vi leggo vi leggo anche i messaggi e ho modo di rispondervi quindi questo è interessante vediamo un attimo il bello di facebook che poi quando la salva questo pezzo che è saltata non non lo non lo fa vedere quindi questo è il bello di facebook che risolve tutti i problemi ok nel frattempo che arrivate riparto con il concetto praticamente ero arrivata a dire che se se dicevo potete vedere ma non vedo più se praticamente siete arrivati anche al punto che non vi ricordate neanche più quali sono le vostre passioni quali sono blocca mario che dice cavolate ladro di tempo ecco poi parleremo di ladri di tempo allora farò una diretta domani sui ladri di tempo va bene che vi piacciono i ladri di tempo sapete quanto mi infuoco sui ladri di tempo allora allora saluto tutte benissimo nei commenti non li vedo più rimetto il link ok per chi ah ma forse già lo vedete sì forse lo vedete allora dicevo quando ehm arriviamo al punto che anche le nostre passioni non ci ricordiamo più quali sono perché da tanto tempo che appunto non ci dedichiamo più a noi stesse ehm dove eh per esempio ehm è da tanti anni che in realtà ci siamo spente abbiamo anche perso magari un po' la motivazione di fare cose nuove abbiamo il timore di fare esperienze nuove cioè magari molto in mente anzi lo dico a base di mia esperienza da consulente consulente primo riferimento in Italia nel settore del riordino lo dico guardando bene la fotocamera per chi così mi dovete avere negli occhi quando dico queste cose che sono vere ehm è quello che quando vi chiedo ma tu eri sempre sei sempre stata così no anzi ero completamente l'opposto quindi fare ordine vuol dire anche ritrovare proprio e riaccendere proprio ehm è un po' cioè io sempre spiego così allora quando tu sei disordinata è come se trascurandoti ehm vai a coprire ok a coprire quello che sarebbe diciamo la l'ambiente ordinato cioè l'ordine è l'espressione migliore che possiamo dare di noi stessi il disordine ehm quando noi palesiamo mostriamo c'è disordine noi stiamo mostrando il peggio quindi quando c'è disordine il disordine sta coprendo la parte migliore di voi che sarebbe l'ordine va bene l'equilibrio l'ambiente potenziante l'ambiente equilibrato l'ambiente in cui ehm state bene va bene comunque io ehm sono abbastanza mi spiace anche sta cosa che la dieta mi è saltata un po' così e non vedo i commenti quindi quando ehm quando noi siamo disordinati disordinate dobbiamo entrare nell'ottica che stiamo mostrando il peggio di noi mostrare il peggio di noi ehm ovviamente cosa vuol dire che ci siamo abituati ci siamo abituate a ehm ad esempio mostrarci pigre incostanti inconcludenti procrastinatrici trascurate senza passione senza desideri comunque molto meno rispetto a prima e come dicevo una dieta di due giorni fa ehm è una mancanza di rispetto quindi ehm accettare il disordine accettare di essere disordinate comunque accettare una situazione che a voi vi è scomoda vi lamentate vi perché vi crea dei problemi vi toglie tempo energia vi fa litigare con le altre persone della famiglia degli altri convidenti accettarlo è la mancanza di rispetto perché tu accetti di arrabbiarti per un motivo che puoi benissimo risolvere tu accetti di litigare con una persona per un motivo così futile ehm o accetti di perdere tempo e il tempo è l'essenza di cui è fatta la vita se noi perdiamo tempo e noi decidiamo di accettiamo di perdere tempo ci stiamo mancando di rispetto nella maniera più profonda sappiatelo perché il tempo è appunto è l'essenza di cui è fatta la vita e vuol dire che noi stiamo accettando che qualcosa di immateriale come cioè è materiale scusatemi ma che non ha voce cioè gli oggetti possano decidere ehm come gestiamo la nostra vita ehm quindi è una grande mancanza di rispetto se vogliamo mettere nel grande significato ok è proprio buttare la nostra vita e se noi pensiamo che ci sono persone che farebbero qualsiasi cosa per avere un'ora del vostro tempo per vivere di più ehm è qua che si va a capire quanto purtroppo diamo poco valore al nostro tempo alla nostra vita alla alle nostre alla potenzialità comunque no che l'opportunità che abbiamo ogni giorno di poter scegliere cosa fare o non fare eh nella nostra vita eh ed è mh ed è rispettoso ok verso noi stessi accettare di perdere tempo buttare il nostro tempo a lamentarci per un problema come il disordine o ad accettare di perdere tanto tempo a cercare le nostre cose o a non vivere la casa come noi vorremmo avete investito tantissimi soldi in una casa che poi non vi rende felici avete investito tanti soldi per una casa in cui avreste voluto vivere rilassati bene e quando noi investiamo tanti soldi per qualcosa i soldi hanno un valore più noi spendiamo più è importante per noi quello in cui noi stiamo investendo e investire centomila duecentomila ottantamila trecentomila euro in una casa in un mutuo qualsiasi esso sia va bene è perché ha veramente valore e se noi non ce ne prendiamo cura di ciò che ha valore per noi capite perché poi siamo disordinati perché abbiamo invertito i valori abbiamo invertito le priorità ecco perché è importante fare ordine e partecipare all'evento che poi voi il link lo vedete qualche leonessa sì no lo vedete lo vedete lo vedo anche io dal computer venite all'evento all'evento è proprio qua che fare ordine a 360 gradi è proprio quello di andare a riequilibrare i valori i nostri valori quindi se noi non diamo valore non ci prendiamo cura di esempio di una casa per cui abbiamo investito centinaia di migliaia di euro capite che è tutto andato a quel paese perché se non ci prendiamo cura di una casa che ha un valore di 100.000 euro perché dovremmo prendere prenderci cura di una maglietta che ne costa 10 o 50 non ha senso non ha senso ed è giusto che quindi poi ci sia il disordine perché l'ambiente la casa che ospita le tue cose è il primo posto del primo luogo di cui tu non ti prendi cura e a catena non ti prendereai cura neanche di cosa c'è dentro neanche di chi c'è dentro cioè voi anche voi non vi prendete cura di voi stessi quindi prendersi cura della casa vuol dire prendersi cura delle cose vuol dire prendersi cura di noi noi ok è come se fossimo la nostra casa la nostra prima casa il nostro corpo la nostra prima casa ecco perché prendersi cura della propria casa vuol dire anche prendersi cura di tutti i settori della nostra vita la salute l'aspetto economico l'aspetto relazionale l'aspetto di crescita personale istruzione formazione emozionale spirituale lavorativo e così via la casa è lo specchio della nostra vita la nostra casa ci dice tutto di noi quando noi guardiamo io dico io almeno poi anche i miei consulenti ma poi faranno la stessa cosa ma quando tu guardi la casa in una persona a prescindere che tu sia per lavorare o meno perché io io ho un problema perché adesso le persone quando mi fanno vedere casa loro la prima cosa che mi dicono almeno tre volte prima che io ci entri è Alba mi raccomando non guardarla con gli occhi del lavoro perché sappi che non è ovviamente giustamente uno si fa scrupoli ma in realtà io non guardo la casa come la guarderesti tu cioè è ordinata o non è ordinata ok quando tu vai da qualcuno subito tu dici chissà com'è è ordinata io non mi aspetto niente nel senso che sono abituata a vedere qualsiasi cosa io stessa ho vissuto nel disordine vivo nell'ordine però sono situazioni che esistono ma non andrei a vedere così la tua casa non lo faccio mai perché tanto il fatto che tu abbia una difficoltà o un problema non è che c'è solo tu perché faccio il mio lavoro è comune è comune quindi al massimo ti potrei dare qualche cosa consiglio se tu me lo chiedi ma non entro mai con questo senso con questa visione ecco ma quello che a me più interessa è vedere l'ordine c'è non quando non c'è niente in casa non è una casa vuota ma quando dalla casa tu riesci ad avere un'idea chiara della persona che ci vive questa è la diciamo è proprio l'ordine per davvero cioè capite quindi l'ordine non è essere minimalisti non è avere dieci cose non è non è eliminare buttare parliamo un attimo di questi temi che riguardano l'aspetto del metodo quindi vi ho detto del nono tempo voi non avete tempo perché siete disordinati fare ordine vi permette di liberare tempo duraturo per sempre quindi quel tempo che poi sarà sempre libero a vostra disposizione perché il disordine non torna più quando andiamo nella nell'aspetto del metodo questa è la parte più importante perché ci sono ricerche insieme a questo qua fu era la ricerca dell'università dell'illinois che aveva fatto questa ricerca dove diceva che praticamente dove mi ha detto che fare ordine riordinare senza metodo è ancora peggio di non farlo cioè perché quando tu fai ordine senza metodo quindi non è un metodo efficace crea frustrazione quindi va a coltivare delle emozioni negative di insuccesso io le chiamo così e quindi cosa vuol dire che tu fai ma tu non ha tutto effetto boomerang quindi tu non appunto a capo questo che ha frustrazione e soprattutto va a creare va a diminuire la fiducia in te stessa va a che altro va a riconfermare il fatto che tu non ne sia capace o che tu non lo possa mai ottenere ed è sbagliato è sbagliato perché perché io lo dico sempre piuttosto che fare ordine senza un metodo che effettivamente poi ti porta a ottenerlo è meglio non farlo piuttosto che perdere tempo ancora tra la tua casa in maniera quindi senza soddisfazione senza successo è meglio che vivi la tua vita esci di casa fai altro ma ogni volta che tu entri in casa e vuoi fare ordine devi sapere qual è il metodo adatto a te devi sapere e avere fiducia nel metodo che tu metti in atto e questo è quello su cui io punto sempre tanto con i miei clienti e i miei clienti nel dire loro e nel confermare loro che il metodo che loro impareranno da me è un metodo che riuscirò ad applicare dall'inizio alla fine ed è veramente a prova di bambino di tre anni perché anche i bambini riescono a fare ordine con il mio metodo all'evento all'evento del 21 giovedì 21 aprile alle ore 21 e potete scrivere con il link è gratis è aperto è pubblico però non ci sono repliche andremo a trattare proprio questa tematica quindi vi spiegherò come sono strutturati come si struttura il metodo quindi i pilastiche compongono il metodo e poi vi presento i miei metodi personali che sono appunto il metodo ad esclusione e il metodo SAR metodo ad esclusione si focalizza solo sulla cernita quindi sono il procedimento ok universale per riuscire a fare cernita su qualsiasi tipologia di oggetto della tua casa autonomamente senza l'aiuto di una consulente a casa e questa è la cosa più importante cioè che tu puoi farlo da solo da sola e riuscire in pochissimo tempo 5-10 minuti fatto a tua categoria poi metodo SAR che invece riguarda l'organizzazione come dicevo non mi ricordo l'ho detto l'ho detto nessuno ah no l'ho detto ok in un video che poi vi metterò comunque vi dicevo che appunto quello che io ho fatto è stato creare un metodo organizzativo anti anti disordine cioè praticamente è per chi è stato disordinato cioè quello che io insegno è per chi è stato ed è disordinato disordinata se tu non lo sei mai stata per esempio sono metodi che ti permetteranno di non esserlo mai comunque disordinata ma per chi è stato disordinato quindi ha avuto purtroppo delle cattive abitudini e una mentalità che comunque per tanto tempo ha fatto parte di voi l'unico modo per far sì che il disordine non possa più riapparire dobbiamo andare praticamente a seguire delle poche semplici regole e attuarle ok sulla l'organizzazione delle nostre cose e sono proprio fondamentali perché il disordine non tornerà mai più io lo attuo da anni e il disordine è mai più tornato e io ho veramente disordinata i miei clienti tale e quale mai più tornato al disordine quindi sono strategie o c'è ancora il sole aspettate sono strategie sono strategie che permettono proprio di non avere più la possibilità di che il disordine possa ritornare nella vostra casa ed esserne sicuri questa è la cosa fondamentale cioè la paura che l'ho avuto anche io la grande paura che hanno le persone quando finiscono di fare ordine perché si finisce di fare ordine è quello ok è quello di sì è quello che non dice però potrebbe tornare allora quello che vi dico è il il disordine può tornare se seguite i metodi qualsiasi altro metodo che non insegno io perché perché sono tanti i metodi fallimentari nel senso che più che metodi sono soluzioni di tampone questo ne parleremo all'evento vi farò una piccola lista di quali sono queste soluzioni di tampone che sicuramente avete già attuato che non hanno funzionato e che non funzioneranno mai cioè questa è la cosa importante da sapere non siete le prime ma spero per voi che siate le ultime a seguire a credere ancora nel fatto che esistano delle soluzioni di tampone che possano essere quella che eliminerà il disordine così in realtà c'è un metodo che comunque lo risolve così però è duraturo per sempre e bisogna però applicarlo applicarlo non è non so prendere degli organizzatori strani tipo quelli che magari sono all'IKEA con tutti questi che sono un po' tipo dei sacchettoni tipo dei sacchettoni con dei ripiani terribili terribili proprio attrazioni sapete la forza della forza dell'attrazione ecco ecco quei sacchettoni tutti quegli organizzatori quei metodi strani che ci sono là fuori proprio in realtà lo attraggono il disordine altro che a forza dell'attrazione in realtà è proprio concentrateli il disordine quindi noi dobbiamo entrare nell'ottica che voi siete da anni o da tempo che volete eliminare il disordine non l'avete ancora riusciti o riuscite comunque disordine ricordiamoci sempre che c'è nel momento in cui comunque abbiamo difficoltà a gestire la nostra casa ma anche il nostro tempo ci trascuriamo e chiediamo un po' con le stesse abbiamo delle abitudini come vi ho detto cattive abitudini che sono la procrastinazione l'incostanza l'inconcludenza essere approssimativi cambiare spesso le priorità sono tipiche se voi avete anche solo alcuni di questi aspetti è importante fare ordine perché fare ordine è una mentalità una mentalità ordinata e anche questo tratteremo all'evento di giovedì 21 aprile alle ore 21 vi iscrivete con il link che trovate in sovraimpressioni in questa diretta per chi lo guarderà indifferita lo metterò nei commenti quindi non vedete il fare ordine come un come un qualcosa di per donne che vogliono pulire casa assolutamente no perché guardate io quando ne parlo gli uomini sono in realtà anche molto affascinati da questo proprio perché sanno quanto è importante essere organizzati e produttivi quindi l'ordine significa produttività significa ambiente potenziante significa raggiungere prima i vostri obiettivi quindi è praticamente è raggiungere quello che voi volete nel minor tempo possibile è diminuire il tempo ok appunto fra pensiero e azione quello che viene tanto insegnato nella gestione del time management ridurre il tempo fra pensiero e azione è quello che si apprende facendo ordine fare ordine vi ho detto è una disciplina a 360 gradi che ci forma che ci forma su quegli aspetti di crescita personale ma anche pratici quindi di gestione del tempo gestione economica gestione della nostra casa degli spazi organizzazione ma anche gestione delle relazioni gestione delle emozioni capacità di scelta capacità di scelta e quindi di non farsi prendere sopravvento da per esempio le emozioni negative o comunque del passato spesso comunque siamo mossi da questo questi questi sono gli aspetti fondamentali quindi quando si parla di metodo bisogna avere il metodo quello che funziona altrimenti cosa succede per sapere come posso sapere se funziona devi avere tanti casi di successo reali faccio una piccola faccio una piccola parentesi ma anche all'evento ne parlo non è che lascio dubbi a riguardo però questa cosa io posso parlare di questo metodo solo perché comunque l'ho sperimentato tanto e ci credevo tanto all'inizio che è il metodo con Mari quindi il metodo di Mari Kondo ci credevo tanto perché è quello da cui sono partita pure io però poi con il tempo hanno chiesto seminare tutto ho capito che il libro non racconta assolutamente il metodo mancano tantissimi aspetti che non vengono analizzati per cui è impossibile fare l'ordine completo quindi già questo è un problema e quindi il suo metodo non è veramente raccontato per filo e per segno in più è necessario essere seguito da una consulente che comunque la consulente non è Mari Kondo cioè se lei non spiega tutti i dettagli quel metodo non sarà mai possibile attuarlo e alcuni aspetti di questo metodo per me sono fallimentari nel senso che per chi è veramente disordinato ed è da solo non lo può fare per questo se tu vuoi fare tu molti mi capita che mi arrivano con il fuori tutto io lo abolisco quindi non è non sono assolutamente a favore perché? perché in realtà è fallimentare e ti porta a mollare prima di quando tu possa immaginare quindi è un metodo in cui ho creduto però però applicandolo e poi appunto ne ho fatto comunque l'ho attuato tante volte perché sono andata fino a livello master di questo metodo poi adesso non mi trovate più sulla piattaforma di Mari Kondo perché non credendo più nel metodo e avendo fatto dei miei metodi e una mia piattaforma di consulenti che sono dei consulenti mappo non ha più senso cioè non sono assolutamente diciamo che c'è un'altra corrente seguo la mia con un'altra corrente che la mia e quindi non sono più sulla piattaforma ma per me sono appunto felice così perché in realtà quello di cui parlo io oggi io ci credo molto di più ci credo molto di più nella sua efficacia e nel fatto che è veramente attuabile da tutti voi senza senza ansia senza stress in poco tempo quindi piccola parentesi è se uno si chiede ma il metodo con mari funziona il metodo con mari è io dico di no il metodo con mari alcuni dicono che su loro ha funzionato è una bufala ci sta è voler credere in qualcosa va bene perché il libro ha fatto un sacco di vendite perché apparentemente sembra che sia boh se ne intenda o si però non è questa la verità non è questa tutto qua l'unico modo per saperlo è attuare i miei metodi e vedere che con i miei ottenete risultati e con il suo appunto siete rimasti a metà avete subito l'effetto boomerang non c'è niente di male sappiatelo perché dico anche questa cosa perché quando tu dici seguo un metodo e fallisco probabilmente perché sono io che non sono brava però se io faccio se io ti dico che quello è il metodo e tu fallisci e tantissime altre persone hanno fallito in realtà allora forse non siamo cioè non sei tu è che semplicemente quel libro non ha lo scopo di aiutare una persona che è realmente disordinata a fare ordine ma ha un altro scopo che è quello di portarti desiderai di fare il suo stesso lavoro di andare al suo corso che costa 2500 euro che non vi consiglio neanche il suo corso io l'ho fatto ho fatto tutto ma se volete fare questo lavoro invece vi invito a diventare consulenti mappo che è la piattaforma che ho creato io quindi è possibile imparare a fare ordine per davvero e insegnare un metodo che funziona per davvero a appunto senza spendere 2500 euro per qualcosa che poi non vi da nulla ok questo l'ho raccontato già detto tante volte quella piattaforma non porta clienti si paga un sacco di soldi per niente non c'è visibilità non c'è niente ma anzi entrare invece nella mia perché potete diventare consulenti mappo ed effettivamente quindi avere poi veramente una clientela persone che esistono in Italia non in America cosa me ne frega voi di avere avere una visibilità in America c'è anche questo scusate l'off topic però è una roba che proprio a me sta proprio qua ma perché l'ho vissuta negli ultimi anni è una roba che cioè sai uno dà la chance seconda chance così però poi ti senti un po' preso in giro tutto qua quindi nella mia visione ringrazio ringrazio Maricondo con i suoi libri la sua idea perché mi ha dato uno senso alla mia vita perché ho detto lo voglio fare anche io e poi ho fatto la mia strada i miei passi ma non non sposo i suoi metodi la sua filosofia completamente perché ne ho creata una mia che è più italiana più europea sicuramente più concreta più pratica e più risolutiva cioè io non vi dico di di fare certe cose insomma io sono diversa e è più è più che altro è quello che funziona a me interessa che le cose funzionino quindi magari voi conoscete dei metodi magari avete trovato dei metodi potete anche dirlo che avete portato dei metodi il punto è avete ottenuto quello che desideravate spendete soltanto 30 mesi settimana effettivamente cioè è a prova di eh anti di di disordine cioè non voi potete anche per una settimana intera non fare niente poi mezz'ora tutto a posto durane per anni mh riuscite a fare ordine anche in 5-10 minuti senza dover tirar fuori mezza casa vi vi tranquillizza l'idea di farlo di attuarlo ehm non lo so ehm è facile l'applicazione cioè che tutti possono impararlo questo è importante ehm l'ordine non ha età non ha età e non ha sesso e questi sono aspetti importanti li approfondiremo li approfondiremo li approfondiremo nei prossimi giorni con altre dirette per questa dirette volevo comunque farvi capire che se siete disordinati è il motivo per cui non avete tempo e se avete provato tanti metodi perché non avete ancora provato quello che funzionerà che è il mio e lo scoprirete all'evento di giovedì 21 aprile alle ore 21 cliccate il link che trovate in sovraimpressione o qui sotto nei commenti che metterò tra poco per iscrivervi gratuitamente l'evento sarà gratis sì posti limitati ore 21 si accede si entra ehm non ci saranno registrazioni non ci saranno repliche chi c'è c'è chi non c'è non c'è all'evento vedete tutti i dettagli dell'evento cliccando il link ma ci sarà anche una sorpresa una cosa bonus una spiegazione una lezione bonus che sarà solo per chi sarà live con questo vi saluto vi auguro oltre che veramente un buon riordino gioia infinita come dico sempre ma di rispettarvi come venendo all'evento dedicando un'ora della vostra futura settimana partecipando fatelo fatelo perché perché io so cosa voi pensate come voi state e l'unica persona che vi può comprendere in questo momento ce l'avete adesso davanti agli occhi ma vi parlerà in modo chiaro e tondo soltanto giovedì 21 alle ore 21 aprile mi raccomando non mancate ci vediamo nella prossima diretta buon giovedì a tutti buon pomeriggio riflettete su di voi ascoltate questa diretta ma anche gli altri video che ho messo e poi avete il gruppo privato per chi accede all'evento ok quindi fate la richiesta per essere accettate buona giornata a tutti buon riordino e gioia infinita grazie a tutti